Il 12 settembre la campanella suonerà per migliaia di studenti molisani. Un nuovo anno scolastico sta per aprirsi tra mille paure e dubbi sulla sicurezza degli edifici che ospitano gli alunni. A Campobasso il tema della sicurezza delle scuole è particolarmente sentito. Lo dimostra la battaglia portata avanti dal comitato dei genitori della primaria di via Crispi che sono riusciti ad ottenere due nuovi edifici. A dire il vero solo una delle due strutture sarà pronte il 12 settembre ed è il plesso di via Sant'Antonio de Lazzari. L'altro edificio di via Berlinguer sarà disponibile secondo le stime del comune non prima della fine dell'anno. La soluzione per tutti gli alunni è stata comunque trovata con le classi quarte e quinte che saranno ospitate nella scuola media colozza. E se i genitori di via Crispi possono tirare un sospiro di sollievo non possono fare altrettanto quelli dei bambini che frequentano altri istituti scolastici della città come la scuola di via D'Amato, un edificio datato costruito intorno agli anni 70 e del quale manca il certificato di agibilità, situazione questa che è comune alla maggior parte delle strutture scolastiche cittadine. In vista della ripresa delle attività didattiche i genitori sono tornati alla carica chiedendo all'amministrazione comunale di conoscere le condizioni della struttura che ospita le scuole dell'infanzia e la primaria. Dal comune continuano a ribadire che l'edificio è sicuro e che sarà venduto ma non per motivi di sicurezza. Dunque la scuola aprirà regolarmente i battenti il 12 settembre ma i genitori non ci stanno e annunciano battaglia. Il terremoto che ha spazzato via interi paesi dell'Italia centrale ha riproposto con tutta la sua gravità il tema della sicurezza degli edifici scolastici e più in generale di quelli pubblici. La scuola diamatrice è diventata l'immagine simbolo del sisma, un edificio sottoposto ad interventi di miglioramento sismico e che dunque avrebbe dovuto garantire un minimo di sicurezza in più. La maggior parte della struttura è venuta giù, se la terra avesse tremato di giorni durante l'orario scolastico sarebbe stata una strage. Gli amministratori locali invitano ad evitare allarmismi ma non si può far finta di nulla sapendo che in Molise, dicono i geologi, il 70% delle scuole è a rischio sismico. È ora di investire in sicurezza e nella prevenzione l'appello che in questi giorni è tornato a circolare. Il comune di Campobasso ha imboccato la strada giusta, aderendo al bando del Ministero sulle scuole innovative e riprogrammando 11 milioni di euro in favore dell'edilizia scolastica. Fondi che, dicono da Palazzo San Giorgio, però sono inspiegabilmente fermi alla regione.